In Europa le maggiori violenze sulle donne sono al nord, di Rino Camilleri. L'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali ha creduto bene alla vigilia della Festa della Donna di rendere nota una sua allarmata ricerca sulla violenza perpetrata ai danni delle donne nei 28 paesi della Unione Europea. I risultati della ricerca sono in effetti piuttosto tristi. 62 milioni di donne vittime di violenze, anche se non necessariamente letali, ma le cifre magari farebbero un altro effetto se accanto riportassero quelle sugli uomini. Insomma, è il totale a dover essere allarmante, non il parziale. Ma la nuova moda è dividere il popolo secondo il gender, ognuno dei quali gender è impegnato a far punire le offese contro se stesso più pesantemente che gli altri. Comunque, era la festa della donna, e in attesa dell'istituzione di una festa LGBT, andiamo a vedere le risultanze della ricerca UE. Ebbene, quel che subito salta all'occhio è la classifica dei paesi violenti con le donne. In testa c'è la Danimarca, con un clamoroso 52% di donne oggetto di violenze. Seconda classificata, la Finlandia, 47%. In terza posizione, la Svezia, 46%. Seguita a ruota dall'Olanda, 45%. L'ultima in classifica è la cattolicissima Polonia, 19%. L'Italia si pone diciottesima su 28, ben dietro a Francia, Gran Bretagna e Germania. Una cosa salta subito all'occhio, ed è la testa della classifica. Ma come? Non erano Svezia, Finlandia, Danimarca e Olanda i paradisi storici dell'emancipazione femminile? Non ci avevano fatto sognare noi vecchietti quando da ragazzi vedevamo i documentari chi si ricorda del clamoroso Helga in cui nei primi anni 60 per la prima volta si vedevano donne scandive nave così come mamma le aveva fatte sulle disinvolte donne del Nord. E noi scuotevamo il capo perché quelle nostrane facevano tante storie e non è sempre da quelle parti che furono inaugurati in tempi remoti i primi corsi scolastici obbligatori di educazione sessuale? E non è svedese il primo asilo infantile rigorosamente unisex? Perfino Alberto Sordi sentì l'esigenza di girare un film sul fenomeno film che ci fece sentire a noi italiani sicuramente repressi da una controriforma senza rimedio come dei poveri arretrati baluba ancora abbarbicati al delitto d'onore del codice Rocco. Oggi, a terzo millennio avanzato guardiamo sgomenti quella sconcertante classifica e ci chiediamo è questa l'altra medaglia dell'emancipazione? Forse è proprio l'emancipazione spinta a produrre conflittualità? Si stava meglio quando si stava peggio? Domande da girare a sociologi, psicologi e filosofi ma senza avere la pretesa di risposte perché non c'è sociologo, psicologo e filosofo che non parta da una sua visuale precostituita. E vanamente si attenderebbe qualche sociologo, psicologo e filosofo disposto a perdere la cattedra per imprudenza. Tuttavia, carta canta in testa alla classifica per violenze sulle donne ci sono i luoghi più avanzati e in fondo c'è la Polonia Semper Fidelis A voi lettori l'ardua sentenza C'è da notare tuttavia che i media italiani hanno tranquillamente ignorato la notizia con un paio di eccezioni come il quotidiano online pagina 99.it e guardo un po' Radio Vaticana Se ne è accorto il collega Mario Natucci che ne ha scritto ma epistolarmente al sito per giornalisti francoabruzzo.it facendo osservare che il Corsera aveva dedicato un'intera pagina a due femminicidi italiani avvenuti proprio l'8 marzo festa della donna e poco spazio per giunta nell'inserto che possono leggere solo i milanesi al maschicidio di uno che era stato ammazzato a martellate dalla moglie e dalla figlia Pochi giorni dopo una donna aveva ucciso a coltellate le sue tre figlie ma tutta l'attenzione era stata riservata al marito che se ne era andato di casa con un'altra Insomma il vero colpevole era lui Sì perché ormai qualunque cosa succeda il grido non è più il classico C'è la femme bensì C'è c'è l'homme Se andiamo a rileggere le donne al Parlamento di Aristofane 391 avanti Cristo vediamo una singolare anticipazione al dettaglio del mondo nel quale ci tocca vivere basta sostituire schiavi con macchine e c'è già tutto quote rosa comprese solo che Aristofane scherzava naturalmente le donne al Parlamento e nei consigli di amministrazione nel clero dappertutto fuorché in casa vanno bene finché non diventano di ferro altrimenti come nel caso di Margaret Thatcher si stappa lo spumante sulla loro tomba dopo averle sputacchiate mentre erano in vita la ricerca europea tuttavia manca di parlare dell'incidenza dell'immigrazione forse due opzioni egualmente politicamente corrette hanno costretto ad una scelta infatti i paesi in cima alla classifica sono anche quelli più popolati in percentuale da musulmani l'olandese Rotterdam per esempio pare avviata a diventare una città islamica e la svedese Stoccolma ha dovuto affrontare per la prima volta nella sua storia una rivolta delle banlie zeppe di immigrati per i quali forse la locale avanzata emancipazione femminile è un pugno nell'occhio buono specialmente quando ne vedono contagiate mogli e figlie se andassimo a vedere sempre per esempio le percentuali di stupri in detti paesi e volessimo sapere chi sono sempre in percentuale gli struppatori magari avremmo un'altra sorpresa si fa per dire politicamente scorretta eh non vorrei essere nei panni degli apprendisti stregoni della political correctness deve formar loro il cervello grazie a tutti Grazie a tutti.